Nuovo contratto con Trenitalia, fusioni di comuni, valorizzazione del patrimonio dialettale piemontese, fitta settimana di lavoro delle commissioni consigliari. Migliorare gli spazi carcerari per reclusi e operatori. Tornano le visite delle scuole a Palazzo Lascaris. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. 1,32 miliardi in 10 anni e 71 nuovi treni sulle ferrovie regionali. Illustrato in seconda commissione il nuovo contratto firmato con Trenitalia. Dopo la recente firma del nuovo contratto decennale con Trenitalia per il servizio ferroviario piemontese 2022-2032, l'assessore ai trasporti Marco Gabusi è intervenuto in commissione trasporti presieduta da Walter Marin per spiegarne le caratteristiche ai commissari, con la presidente dell'Agenzia della Mobilità, Licia Nigrogno, e il direttore regionale di Trenitalia, Marco della Monica. Esprimo la massima soddisfazione per la firma di questo contratto decennale con Trenitalia, ha detto Gabusi, che assicurerà il servizio ferroviario regionale al Piemonte fino al 2032. Il contratto complessivamente vale 1 miliardo e 320 milioni. Grazie alle nuove risorse abbiamo aperto una trattativa con Trenitalia, 250 milioni su 10 anni in più rispetto a prima. Ci sarà un servizio migliore per tutti. L'età media dei nostri 120 treni passerà dagli attuali 26 anni a 14 anni perché ci saranno 71 treni nuovi. I consiglieri intervenuti nella discussione hanno sollevato alcuni problemi che rimangono aperti. Tra i principali emergono la sicurezza sui treni, l'eliminazione dei passaggi a livello, l'introduzione dei treni a idrogeno, la sostituzione dei materiali rotabili vecchi, i treni scolastici troppo pieni. Al termine, la Commissione, dopo la relazione dell'assessore alle politiche per la casa Chiara Caucino, ha dato parere favorevole all'unanimità all'introduzione nel regolamento dei punteggi per le case popolari di un nuovo parametro, 5 punti in più per i genitori separati. A lavoro anche la Commissione Autonomia. Licenziato a maggioranza dalla Commissione Autonomia, presieduta da Domenico Ravetti, Partito Democratico, il DDL su iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo, che riscrive le norme per la fusione dei comuni. Con un emendamento, ha spiegato l'assessore Fabio Carosso, si prescrive che il procedimento si conclude quando, in uno dei comuni interessati, il risultato del referendum è contrario alla fusione. In pratica, è necessario che tutti i comuni coinvolti siano d'accordo, almeno nella maggioranza dei cittadini che partecipano alla consultazione, perché possa proseguire l'iter di fusione. Prima della prodo in aula del DDL, è necessario un passaggio in prima commissione per la norma finanziaria. È stata anche presentata da Monica Canalis, Partito Democratico, la proposta di legge per il sostegno e il riconoscimento della funzione sociale ed educativa del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, quale strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa. All'unanimità, infine, la Commissione ha licenziato la proposta di deliberazione 259, che prevede il cambio di denominazione del comune di Grana, in provincia di Asti, in Grana-Monferrato. Prosegue l'iter di modifica del testo unico sulla cultura, che, su proposta di Andrea Cane, lega dovrebbe arricchirsi di alcune norme che hanno l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico e dialettale regionale, in quanto elemento qualificante dell'identità piemontese. La stessa commissione, presieduta da Davide Nicco, ha espresso a maggioranza parere di massima favorevole alla proposta di legge. La PDL prevede recupero e l'utilizzo di toponimi mediante l'installazione di cartellonistica, segnaletica turistica e segnali stradali, corsi per l'apprendimento linguistico rivolti alla popolazione, accordi con l'ufficio scolastico regionale per valutare attività didattiche, extracurriculari e facoltative per gli studenti e collaborazioni con Atenei, associazioni e istituti culturali finalizzate alla ricerca storica e scientifica. Rimaniamo in tema di valorizzazione delle tradizioni. Un viaggio dal Piemonte all'Argentina per promuovere oltreoceano la cultura piemontese. Un viaggio culturale per consolidare gli antichi legami tra il Piemonte e la Pampa gringa, cuore dell'immigrazione piemontese in Argentina. Fino al 16 novembre il gruppo di danze popolari i Dancer del Pilum portano oltreoceano animazione, danze, teatro ma anche seminari e conferenze in lingua piemontese. Il progetto, che vede la collaborazione di FAPA, Federazione delle Associazioni Piemontesi in Argentina e Piemonte e Cultura, fa parte delle iniziative promosse dall'Associazione Piemontesi nel mondo. Loro hanno il piacere costantemente di ricordarsi chi sono e da dove sono arrivati. Abbiamo noi come Regione Piemonte il piacere di continuare a mantenere questo rapporto stretto. In Argentina, dove vivono centinaia di migliaia di discendenti di emigranti piemontesi, ormai di terza e quarta generazione, è ancora viva la lingua piemontese e si mantengono incontaminate le antiche tradizioni di coloro che, partendo dal Piemonte tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, si avventurarono in cerca di fortuna verso un lontano, sconfinato e sconosciuto continente. Poche settimane fa abbiamo ospitato in Consiglio regionale le rappresentanze delle associazioni piemontesi d'Argentina. Oggi è una nostra associazione che, col sostegno del Consiglio regionale, va a portare il nostro saluto ai nostri fratelli d'oltremare, a condividere con loro le nostre storie, le nostre tradizioni, i nostri balli. Un grande abbraccio che ci unisce con l'Argentina. Ora ci occupiamo di miglioramento degli spazi carcerari per reclusi e operatori. Anche l'architettura può rappresentare una ricetta per risolvere i problemi del carcere. Struttura e organizzazione degli spazi sono infatti fondamentali ai fini rieducativi e riabilitativi dei detenuti. Questo è il messaggio emerso dal seminario Architettura versus Edilizia, le sfide del carcere contemporaneo, che si è svolto a Palazzo Lascaris. Promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso l'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in collaborazione con la Conferenza dei Garanti Territoriali delle persone private e della libertà, l'incontro ha proposto una riflessione sull'ambiente fisico del carcere in termini di qualità architettonica per il benessere dei reclusi e degli operatori anche alla luce delle direttive recentemente elaborate dall'amministrazione penitenziaria. Se non ci sono spazi, se non ci sono aule, se non ci sono laboratori, se non ci sono locali per dormire o per mangiare adeguati, inevitabilmente abbiamo una pena che è inumana e degradante. Indagare lo spazio fisico del carcere può apparire un argomento ostico ed eccessivamente specialistico, ha dichiarato il componente dell'Ufficio di Presidenza Gianluca Gavazza, portando il saluto dell'Assemblea Legislativa piemontese. Ma non è così perché strutture rigide, degradate e isolate non favoriscono la socializzazione, la rieducazione e possono rivelarsi nocive sia per i detenuti sia per il personale che opera e lavora all'interno del carcere. L'edilizia è un concetto generico, tutto è edilizia, bisogna parlare di architettura perché bisogna parlare di caratteri, bisogna parlare di specificità, bisogna parlare di qualità dello spazio e avere anche il coraggio di lavorare sul patrimonio che abbiamo, un patrimonio molto consistente e anche molto sottoutilizzato. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono essere finalizzate alla rieducazione del detenuto. Questo per lo stato materiale della condizione carceraria non è del tutto possibile. La nostra cultura politica ha cent'anni dalla rivoluzione liberale di Piero Gobetti. Questo è il tema del convegno a cura del Centro Studi Gobetti con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte che si è tenuto in salaviglione per celebrare il centenario dall'uscita del primo numero del settimanale politico La Rivoluzione Liberale. Il progetto mira da un lato a ripercorrere gli anni della crisi della democrazia e dello Stato liberale attraverso le pagine della Rivoluzione Liberale, dall'altro a rivisitare le principali interpretazioni che del fascismo diedero i contemporanei, in particolare Piero Gobetti, Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci. Palazzo Lascaris è tornato ad aprire le sue porte agli studenti e alle studentesse del Piemonte. In occasione della mostra Guarda Voi, 200 anni della Scuola Lievi Carabinieri di Torino, ospitata fino al 7 dicembre nelle sale della Galleria Spagnolo, sono riprese a Palazzo Lascaris le visite didattiche rivolte alle scuole per studenti e studentesse a partire dalla classe quinta della Scuola Primaria. La visita, della durata di un'ora e mezza circa, con un numero massimo di 30 studenti, si articola in due momenti, uno dedicato alla mostra, l'altro agli aspetti storico-artistici di Palazzo Lascaris e istituzionali del Consiglio regionale del Piemonte. Per le classi della Scuola Secondaria di primo grado, oltre alla visita, è previsto un laboratorio sulla storia dei carabinieri. Stiamo visitando la mostra sui carabinieri perché fa parte di un progetto attuato nella nostra scuola per quanto riguarda l'educazione civica e in particolar modo la visita agli enti locali di Torino. Questo progetto parte appunto perché i bambini sono i futuri cittadini del domani e quindi è giusto che conoscano gli enti locali. La loro curiosità intrinseca in quanto bambini li porta a essere a curiosare verso le cose più semplici che magari noi diamo per scontate o anche solo come adulti non necessario da sapere. La prenotazione per le scuole deve essere effettuata esclusivamente online sulla apposita pagina del sito del Consiglio regionale del Piemonte. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci!